Come negli ultimi quattro anni, anche la vendemmia 2012, o sarebbe meglio dire, soprattutto quella del 2012, sarà problematica. I fattori scatenanti, le copiose piogge di maggio ed il prolungato periodo di siccità, che pare si piotrerà almeno fino a settembre. Stamani abbiamo fatto visita alle aziende di Monte Carlo, per capire se il prodotto tipico del comune della Piana subirà grossi scompensi che a livello nazionale le associazioni di settore temono, con una produzione che, dicono, diminuirà di almeno il 20%. La situazione nella città del vino non è ovviamente rosea, con il rosso specialmente quello delle vigne francesi come il Syrah ed il Cabernet, che certamente subirà un calo di produzione, che Eugenio Fontana della Fattoria del Buon Amico ci dice seguirà la tendenza nazionale. Discorso diverso invece per il bianco, in quanto la vendemia del DOC di Monte Carlo è precedente rispetto a quella del rosso, così da non asciugare troppo l'uva, che trovata carenza di acqua nel terreno tende a seccare il grappolo. I produttori sono sicuri che la vendemia 2012, che sarà anticipata di qualche settimana, non sarà certo da ricordare per le quantità prodotte, ma tutti sono concordi su un fatto. Non è sempre vero che da annate con minori produzioni si facciano vini peggiori rispetto ad altre annate. Infatti chi ha lavorato bene in vigna potrà presentare nel 2013 vini assolutamente in linea con quelli degli scorsi anni. A sostenere questa tesi anche la Coldiretti Toscana, che sottolinea come il calo di produzione sarà un problema per i produttori, che in ambito regionale avranno a disposizione circa 400.000 ettoliti di vino in meno. Discorso diverso per la qualità del prodotto, che sarà buona ed in alcuni casi ottima.